Allora, innanzitutto benvenuti a tutti a questo incontro salute mentale al diritto dei giovani promosso da ACMOS e dalla Fondazione Circolo dei Lettori nell'ambito dell'iniziativa Una comunità che cura. Grazie davvero di cuore a tutti i ragazzi per essere qui e grazie soprattutto a te Federico per aver accettato di dare la tua testimonianza Oh grazie a voi, grazie a voi Per far sentire la tua vicinanza ai giovani su un tema davvero così importante e così urgente Andiamo subito al saldo, poi so che i ragazzi hanno preparato anche delle domande, è uno spazio per voi e non vedo l'ora di passarvi il microfono perché è davvero un momento prezioso di condivisione. Io ho avuto modo di conoscere Federico e so quanto ci tiene a voi ragazzi quanto ci tiene a raccontare la sua testimonianza perché magari può essere d'ispirazione a qualcuno Entrando proprio nel merito della salute mentale, Fede dopo la malattia vi dichiarato insomma di aver avuto dei problemi di salute mentale che avevi trovato la forza di parlarne senza pudore e vergogna e questa è una cosa fondamentale e che il fatto di parlarne e di condividere in questo stato è stato un po' un primo passo per trovare un sostegno e cercare soluzioni e voglio un po' di raccontarci la tua storia Sì, allora diciamo che mi viene da esternare la mia esperienza non immediatamente perché ovviamente palesare al pubblico, soprattutto quando si ha una figura esposta pubblicamente anche solo di prendere psicofarmaci è ancora visto un po' come uno stigma ma io stesso credo di essere vittima dello stigma perché ricordo quando, che ne so, nell'ambiente televisivo o nell'ambiente discografico, se gira voce che un artista o un conduttore fa uso di psicofarmaci comunque si tende a vederlo come una cosa respingente in qualche modo quindi di primo acchito non mi è venuto da raccontare la mia storia poi ho avuto due emorragie interne e un principio ischemico allo stomaco dove ho rischiato di morire, ho perso metà del sangue che avevo in corpo e mentre ero nel letto d'ospedale mi sono detto ma sai che c'è, ma che cazzo me ne frega ha detto proprio francamente perché credo che al netto di tutto ciò che si può fare in termini specialistici quindi io non sono a parlare in termini di, in quanto esperto di psichiatria o psicologia però credo anche che confrontarsi e palesare le proprie esperienze possa essere utile anche per gli altri in qualche modo e quindi mi sono detto perché no ho fatto quest'intervista con Cazzullo sul Corriere che è andata molto bene dove ho iniziato a introdurre la mia esperienza oltre a questo ho iniziato anche un po' a studiare qual è il tema della sala luttamentale in generale e i dati che sono emersi sono estremamente allarmanti nel senso che senza stare a farvi il pippone dei numeri onestamente che potete trovare il tema centrale è in questo paese la salute mentale sarà secondo me il tema dei prossimi dieci anni soprattutto per voi e il problema è che la politica, i media non ne parlano minimamente evidentemente perché da un lato non porta voti e dall'altro non porta soldi momento più buono lo faccio io tanto per dare un'idea ai ragazzi di cosa stiamo parlando in Italia, così da un'indicazione insomma i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi che vuol dire tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale si è abbassata molto la soglia di età con un'incidenza che è in ascesa perché in meno di dieci anni è raddoppiato proprio il numero di bambini e ragazzi che manifestano un disagio che poi può essere un disagio poi effettivamente non tutta l'ansia riguarda il tema della salute mentale però è un disagio che comunque fa star male e che soprattutto dopo il covid ha portato effettivamente dei numeri anche nei pronto soccorso davvero davvero allarmanti parlavi dello stigma effettivamente della malattia mentale qua c'è un grosso lavoro culturale da fare ci sono altri dati secondo me altrettanto preoccupanti per esempio la generazione Z la prima causa di morte degli adolescenti è il suicidio uno dei medicinali più prescritti e passati dal sistema sanitario pubblico sono antidepressivi o ansiolitici quindi il dato è realmente allarmante che domanda mi hai fatto? ti dicevo quanto c'è bisogno di superare un po' questo stigma anche culturale perché anche ammettere di avere un disagio, un problema tu dicevi il primo passo per me è stato parlarne che in fondo ha aperto un po' sì ma poi dipende da persona a persona io in generale ho imparato un po' a fare il callo e a sbattermene altamente della percezione che può avere una mia dichiarazione quindi sicuramente ho maturato un'esperienza diversa e ho degli strumenti diversi che magari tanti giovani non hanno anche non giovani il tema secondo me non è solo lo stigma ma è anche come fare ad accendere un riflettore su questo tema e far sì che diventi il tema dei prossimi anni in questo paese perché ad oggi non lo è è un tema altamente marginale, secondario e non dovrebbe esserlo perché stiamo parlando della cosa più importante che abbiamo che è la salute mentale e la salute fisica devono viaggiare di pari passo e se già la sanità pubblica non gode diciamo di una salute buona in questo momento la salute mentale non è minimamente presa in considerazione in questo paese ed è un problema ed è un problema come diceva prima Federico il suicidio è la seconda casa di morte in Italia nei giovani tra i 15 e i 24 anni preceduta solo dagli incidenti stradali questa è una fonte di istituto superiore di sanità e i comportamenti autolesivi suicidari sono un aumento del 27% rispetto al periodo pre-covid non diciamo più altri numeri ma proprio per darvi un'idea una fotografia di quanto veramente è ampio il problema cosa ti è spinto a essere qua oggi con i ragazzi quale messaggio vuoi dare a loro? un messaggio di... ma non lo so mi piacerebbe mi piace innanzitutto sono apertissimo al confronto mi piace comunicare mi piace parlare e spero in qualche modo di far comprendere quanto sia importante anche da parte loro perché ovviamente più se ne parla e meglio è e quindi diciamo se questa cosa può in qualche modo innescare una miccia perché no? forse è proprio un percorso di parlare da una parte ci deve essere qualcuno che deve ascoltare che deve comprendere quello che stai dicendo e provare a restituire delle certezze che devono venire anche dalle... devono essere anche certezze sociali e come dire però che in qualche modo possono indirizzare laddove uno sta vedendo un po' buio parlavi prima degli psicofarmaci so che è un altro tema che a te è molto caro perché hai raccontato proprio l'effetto rebound cioè il fatto anche di gestire malamente o con un po' di superficialità infatti parlavamo anche di consapevolezza o so di avere un problema ma so anche che se devo parlare devo parlarne con qualcuno che possa davvero aiutarmi e questo qualcuno ti deve anche indirizzare sì sì io credo... immaginate io ho affrontato un tumore al pancreas molto raro ho dovuto letteralmente fare i conti con la morte cioè affrontare l'ipotesi di morire e a un certo punto nonostante io abbia i mezzi sia un privilegiato in questo paese nonostante questo sono riuscito ad avere l'esperienza peggiore tramite gli psicofarmaci nel senso purtroppo mi sono rivolto ad uno specialista che mi ha prescritto a un certo punto io prendevo sette psicofarmaci tutti insieme quindi antipsicotici, litio, aripiprazzolo, serotoninergici e perché questo? perché ogni volta che prendevo uno psicofarmaco mi dava una reazione avversa e questo dottore per curare la reazione avversa mi prescriveva un altro psicofarmaco quindi si è creato una sorta di matrioska in cui sono arrivato a prenderne veramente tanti ad affidarmi completamente a non comprendere che stavo male che non stavo bene fino al punto che un antidepressivo che prendevo aveva questo fantastico effetto collaterale di creare balbuzie cioè quindi balbettavo nell'eloquio cosa che un po' mi è ancora rimasta e ci sto lavorando su cioè non è una cosa che mi è scomparsa completamente ricordo che l'apice perché poi ovviamente le sfighe vengono sempre insieme l'apice delle mie balbuzie l'ho avuto mentre dovevo fare uno spot per McDonald's in cui dovevo dire Crispy McBacon e ci ho messo tipo otto ore a dire Crispy McBacon quindi fu terribile perché io dovetti smettere di prendere tutti i farmaci di botto senza scalarli e quando tu non scali il farmaco si chiama effetto rebound come dicevi tu non so dare una spiegazione medica dalla mia esperienza la sensazione era come se ti stessi disintossicando dall'eroina crampi alle gambe ho fatto dieci giorni a letto senza potermi alzare letteralmente non distinguevo la realtà dai sogni cioè i sogni mi sembravano più reali della realtà e insomma è un'esperienza orribile e dopo questo ovviamente perché le sfighe vengono sempre insieme e quando mi sono diciamo disintossicato letteralmente da tutto quello che prendevo ovviamente il mio cervello richiedeva un farmaco che non aveva più di supporto e quindi tutto è sfociato in una depressione ancora più acuta rispetto a quella che avevo prima motivo per il quale cioè perché racconto tutto questo secondo me perché in questo paese proprio non c'è una cultura rispetto alla salute mentale se ne parla talmente poco che anche chi ha i mezzi può incappare anche chi è privilegiato può incappare delle situazioni tremende immaginiamoci chi non ha i mezzi chi non è un privilegiato a cosa può andare incontro questa è una cosa importantissima che ha detto Federico non c'è distinzione di ceto sociale di età davvero il difficoltà problemi che riguardano la salute mentale possono davvero toccare tutti e questa è qualcosa che va tenuto presente sia quando uno si guarda con se stesso perché è un tema è il primo passo per volersi bene e provare ad ascoltarsi veramente intercettare da subito se c'è qualcosa che non va sia quando si guarda gli altri parliamo tanto di inclusione di bullismo di emarginazione insomma la vostra è un'età difficile in cui accadono di norma tante cose e sapere che c'è tante persone probabilmente per il covid probabilmente per motivazioni anche di incertezza su un futuro complesso vediamo le guerre ci sono tanti motivi che possono portare ad avere questa crisi diciamo generazionale però già la vostra è una fascia particolare attenzione perché magari nello sguardo anche di un amico di un compagno qualcuno che si chiude in se stesso può esserci una richiesta d'aiuto che in qualche modo potete intercettare e questo veramente possiamo fare ciascuno di noi la differenza nelle piccole cose poi sicuramente c'è un grandissimo peso sulla generazione degli adulti di riferimento che probabilmente in questo contesto non è assolutamente esclusa da questa problematica che non è esclusa ma che verso i ragazzi forse c'è qualche cosa che non funziona non sono un questo è un altro problema ancora nel senso a me io ho un podcast che si chiama Muschio selvaggio e mi capita di intervistare altissime celebrità trapper e artisti e mi rendo conto io stesso che appartengo a un mondo completamente diverso rispetto a loro e non riesco nemmeno io a trovare una soluzione francamente cioè a me mi capita di intervistare trapper e di dirgli mi raccomando non fare casino che poi ti arrestano e una settimana dopo li arrestano quindi non lo so è difficile ricostruire proprio un dialogo riuscire in qualche modo a parlare ad aprirsi verso persone indipendentemente dall'età che possono in qualche modo ispirare un senso di fiducia e quando secondo te i giovani di oggi abbiamo visto che ci sono dei dati cioè gli esperti ti dicono è un periodo storico hanno attraversato la pandemia c'è una situazione diciamo di incertezza verso il futuro che è palese che si può toccare con mano tu ti sei fatto un'idea del perché ragazzi che tutto sommato sono più isolati oggi che sono iperconnessi questo è già un po' un paradosso secondo te questa cosa incide sul loro benessere psicosociale questo fatto di esserci ma non esserci in fondo la sensazione che questa generazione è servita un po' come cavia rispetto a tantissimi mezzi e strumenti e media e piattaforme che abbiamo utilizzato senza saperne le conseguenze gli stessi social network andranno studiati e andrebbero studiate le ripercussioni psicologiche e psichiatriche e sociali e culturali che stanno avendo in ogni paese non solo nel nostro ad oggi ci sono credo pochissimi studi è molto è molto complesso purtroppo siamo noi che detteremo in qualche modo che è brutto da dire ma siamo un po' cavia di questa di questa cosa qui ci sono tantissime cose che io ho scoperto adesso dico una cosa un po' d'anziano però gli stessi videogame io mi sono scioccato non so in quanti di voi conoscono Twitch immagino boh conoscete no io ho fatto Twitch per un periodo e a un certo punto sono venuto a contatto con questa realtà che è GTA RP che vuol dire è il gioco di GTA in real life no e ti permette a tutti gli effetti di entrare in un mondo virtuale con soldi virtuali in cui puoi avere una vita parallela virtuale e io ho conosciuto dei ragazzi che hanno un lavoro fisso all'interno del videogioco per prendere soldi e avere una vita più interessante all'interno del videogioco piuttosto che nella loro vita reale e insomma è creepy come cosa no è complessa direi assolutamente sì tu tra l'altro sei stato tra i primi a un po' sdoganare sui social il concetto di non del mondo apparentemente dorato meraviglioso irraggiungibile che un po' di frustrazione magari creava anche in qualcuno raccontando che invece poi un conto è quello che si racconta che fa parte un po' anche di un gioco fa parte anche del proprio lavoro un conto ma io ho sempre raccontato la mia vita poi se può avere infastidito qualcuno io dicevo che tu anzi hai proprio con questa trasparenza non hai soltanto raccontato quello che era top ho sempre raccontato il bello e il cattivo tempo e questo è un po' forse un'evoluzione credo che le esegesi di ciò che racconto io tramite i social sia che la fama il successo i soldi siano splendidi perché non credo di essere questo testimonial anzi credo di essere testimone del fatto che il denaro e la fama soprattutto il denaro risolvono un problema ma non risolvono tutti i problemi so che è una cagata da dire però è la verità so che vi suonerà retorico però è così questo merito è un grande applauso grazie a lui che mi ha fatto l'applauso e forse in questa evoluzione dei social c'è anche così una maggiore un maggiore pensiero proprio alla realtà e tu tra l'altro hai creato una fondazione magari non tutti lo sanno perché nei racconti nelle interviste con Federico c'è sempre questa cosa della gratitudine cioè tu hai molto questo senso di responsabilità verso gli altri questo senso di dire ho fatto tanto ma voglio fare l'abbiamo visto dai Federico quando c'è stata la pandemia la raccolta fondi il buono psicologo insomma ti sei sempre mosso davvero per gli altri hai creato anche una fondazione che magari non tutti conoscono che è per accendere proprio anche i riflettori sulla salute mentale ci vuoi parlare della tua fondazione Federico? Allora la mia fondazione nasce io con gli anni non mi ricordo niente in realtà subito dopo la raccolta fondi sul covid in cui abbiamo costruito una terapia intensiva al San Raffaele e donato 350.000 euro ad altri ospedali pubblici d'Italia mi sono non lo so ho trovato stimolante seguire questi progetti nello stesso periodo pochi mesi dopo durante la pandemia non so se vi ricordate ma le maestranze del mondo della musica avevano perso completamente il lavoro nonostante il ministero della cultura dice che ha stanziato trilioni di dollari la verità è che essendo un settore iperframmentato i soldi andavano alle cooperative e le cooperative non davano i soldi ai lavoratori poi Franceschini mi può smentire su questo se vuole il tema era questo che molte persone che lavoravano nel mondo della musica quindi chi montava i palchi per noi i fonici competenze anche altissime che avevamo in questo settore erano destinate a scomparire e quindi ho cercato di mettere in piedi un progetto per raccogliere dei denari e in un anno in dieci giorni non dormendo la notte ho raccolto due milioni di euro e non andavo a raccoglierli a chiedere alle persone andavo dai brand con cui lavoravo spiegavo il progetto e cercavo di raccogliere denari il in dieci giorni due milioni e credo che in un anno non mi ricordo se cinque o sette non mi ricordo facciamo cinque per essere umili cinque milioni di euro che sono stati ripartiti grazie al CESBI che ci ha dato la piattaforma perché poi lì è anche tutto un fattore tecnologico cioè come fai a richiedere la domanda come faccio io a verificare cioè è stato complessissimo da gestire e il CESBI ci ha prestato la piattaforma sono stati molto bravi abbiamo erogato stipendi per migliaia a migliaia di persone da lì ho compreso che dovevo creare una struttura non potevo più muovermi così no e quindi ho creato la fondazione e da lì ogni anno cerco di seguire dei progetti per un anno e mezzo due mi sono dedicato alla fondazione TOG che è un centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse dove complessivamente diciamo tra perché poi mi piace molto quando i giornali analizzano la mia beneficenza e dicono ah Federico attenzione dona i soldi lui come se fosse una cosa brutta cioè quello che si evince dalle mie cose benefiche e che ci metto in parte preponderante i miei soldi vorrei capire dove sta la cosa brutta in questo caso comunque complessivamente per TOG tra denari che ho messo io personalmente e soldi che ho raccolto tramite concerti di beneficenza la vendita dei dischi abbiamo raccolto in un anno sui 600 mila euro che per una fondazione neonata è tantissimo quest'anno vorrei dedicarmi a questa realtà che si chiama Matemu è un come ve lo spiego è un centro di aggregazione per giovani una perla rara in Italia Barbero di Torino raga sì è di Torino provincia so che Barbero ha fatto una dichiarazione pubblica dove dice i centri sociali facevano bene ai giovani perché mancano i centri di aggregazione io sono completamente d'accordo con questa asserzione perché io vengo dai centri sociali e seppur fossero dei contesti anche molto violenti però erano un centro di aggregazione reale in cui venivi a contatto con le persone ti davano un certo tipo di formazione se vuoi anche sbagliata in un certo senso però era qualcosa venendo a mancare luoghi di aggregazione il destino di questi ragazzi sarà stare come lui davanti al telefono o davanti ad uno schermo e non dare un'alternativa è un peccato secondo me Matemu dà un'alternativa in questo senso offre corsi di musica gratuiti corsi di rap gratuiti è un centro di aggregazione che non solo aiuta i ragazzi che sono nei centri d'accoglienza ma vuole anche avere ragazzi italiani di tutte le classi sociali di tutte le stratificazioni non so come si dice hai capito il senso che provengono da diversi ambienti e da diversi contesti per creare una coesione immaginate che prima del covid i numeri adesso non ve li so dire con un'esattezza ma mi hanno spiegato che da dopo il covid c'è stato un calo dell'affluenza immenso quindi la mia idea è aiutare Matemu e il mio sogno sarebbe aprire tanti di questi centri in tutta Italia sarebbe fantastico ma sbaglio allora il tuo messaggio un po' da lasciare per lasciare anche poi daremo un resto spazio ai ragazzi anche ai ragazzi bene il digitale perché offre mille possibilità di incontro eccetera ma uscite relazioni incontri veri ma non è colpa loro se nessuno gli offre un'alternativa è giusto che loro stiano dove c'è la migliore offerta il problema non sono loro il problema è che non gli dà alternative ritornare a incontrarsi insomma a parlare guardarsi negli occhi a vivere questa è una suoneria anni 30 chi è che c'è questa suoneria? sarà è un cordless senti nel tuo essere così attivo nel pensare agli altri anche questo ultimo progetto di cui stavi parlando i progetti della tua fondazione in qualche modo pensare agli altri aiutare gli altri fa parte di una cura cioè una cura per te ti fa star bene qualcosa che ti che fai perché ti senti in dovere perché è un qualcosa che trovi che possa che ti aiuta che ti fa guarda a me a me piacerebbe tantissimo dipingermi come la persona più altruista del mondo la verità è che fa stare in primis bene me cioè io credo veramente che sia un atto egoistico in cui io sto meglio quindi credo ammetto con sincerità che è una cosa che in primis fa stare bene me e mi fa dare un senso al mio percorso in questa in questa vita qua un applauso super perché se ci fossero atti di egoismo come i tuoi Federico il nostro sarebbe un mondo decisamente decisamente migliore e prima di lasciare la parola ai ragazzi sentendoti parlare sei un ragazzo estremamente forte energico e anche molto ironico l'ironia aiuta tanto ad affrontare anche momenti un po' più bui perché magari qualche ragazzo adesso sentendoti parlare si sente un po' così può aiutare io credo che l'ironia sia il privé dell'intelligenza e il mio mantra nella vita è non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo bellissimo ragazzi adesso la parola a voi so che avete scritto un sacco di domande per questioni proprio di tempi abbiamo dovuto limitarle però lo spazio a voi Federico è qua per rispondere ciao ciao buongiorno Fedex buongiorno la musica l'ha aiutato a superare i momenti difficili? sì e no la musica mi ha dato tanto se sono qua probabilmente è grazie alla musica credo anche che la musica mi abbia tolto anche tanto di conseguenza perché io faccio tante cose faccio musica faccio l'imprenditore faccio tante cose nella musica è come se fossi a un tavolo di poker e facessi all in e mettessi tutto me stesso e di conseguenza anche tutti i miei traumi questa cosa non è sana perché ti fa vivere la musica anche in maniera a volte non in maniera anche un po' tossica a volte quindi credo che mi abbia dato molto ma che stia imparando a vivermela meglio col tempo e soprattutto quando ero giovane non mi ha mi ha aiutato tanto ma mi ha consumato può aver senso mi ha consumato in un certo senso grazie buongiorno buongiorno durante la malattia quali sono state le cose le persone che l'hanno aiutata a trovare conforto io il mio pensiero allora durante la malattia è stata tosta io guarda ti dico onestamente che non credo di avere ancora metabolizzato la cosa quindi è un processo continuo e credo che ci vogliano anni per arrivare ad una completezza a una metabolizzazione completa rispetto all'avvenimento perché è una cosa estremamente complessa ovvio nell'immediato io ricordo di aver fatto un solo pensiero cioè di aver in qualche modo superato credo non lo so la paura della morte la cosa che mi metteva più ansia ma mi dava anche la spinta di di mantenere un minimo dignità e compostezza era il fatto che i miei figli non si non si sarebbero più ricordati di me se io fossi morto perché mia figlia ha festeggiato il compiole anno mentre mi hanno operato e mio figlio aveva madonna mia sono una pippa ma se sbaglio gli anni mi uccidono tutti aveva tipo tre anni una cosa del genere cioè quindi erano troppo piccoli per potersi ricordare di me e questa era la cosa che mi faceva più paura della morte ma in un certo senso era anche il motore che mi diceva porca puttana Federico non mi morire adesso che se no è una merda capito sappiamo che ci sono altre domande vediamo ecco ti scusa non ti vedo buongiorno la mia domanda è prima di avere la malattia o sintomi che opinioni avevi su questi argomenti in che senso cioè prima di avere queste malattie e magari sentivi notizie di altre persone che hanno gli stessi sintomi o malattie ah beh ovviamente finché le cose non ti toccano personalmente ne sei lontano sfortunatamente nella mia famiglia ci sono stati tanti morti di cancro quindi è un tema che avevo già affrontato ovviamente quando tocca a te è sempre un po' diverso ovviamente e quindi poi sai il mio cancro che ho avuto io non è un cancro che puoi ma magari mi sbaglio ma non voglio dire però a me mi hanno detto magari mi sbaglio che non è che puoi fare tanta prevenzione cioè o lo becchi in tempo che ti va di culo detta in francese o lo becchi tardi come come Steve Jobs perché è lo stesso di Steve Jobs quindi sicuramente volente o nolente quando le cose ti toccano personalmente hanno le percepisci in maniera diversa anche dopo grazie buongiorno buongiorno le volevo chiedere no non mi dare del lei che sembra che ho 80 anni così dai ti volevo chiedere quale pensi sia il modo migliore per aiutare una persona che ha difficoltà oh madonna non chiederlo a me non va il microfono guarda si è acceso ma Fede si dice di non sapere in realtà essere qua aiuta anche tante persone anche l'essere qua ti do il mio tieni tieni ciao io volevo chiederti se dopo la depressione sei cambiato rispetto a te del tuo passato dopo la depressione sei cambiato rispetto a te del tuo passato eh sì eh beh sì cioè la 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 allora quella che ho avuto io si chiama depressione farmacoresistente ovvero che è una depressione talmente acuta che è resistente ai farmaci eh è ovvio che ti cambia è difficile riuscire a capire che che c'è sempre una luce in fondo al tunnel e che non può piovere per sempre ma nel momento in cui sei lì è molto difficile comprendere che tutto passa in qualche modo eh motivo per il quale non è una cosa che puoi affrontare da solo non credete a chi vi dice a chi vi fa i discorsi motivazionali del tipo eh la depressione non esiste è solo una condizione mentale eh lavora su te stesso diventa il gladiatore di sto cazzo non è così cioè eh quando hai una depressione hai bisogno di aiuto probabilmente se un dottore te lo dice hai anche bisogno di farmaci il consiglio che vi do è se mai vi doveressero prescrivere dei farmaci non abbandonate mai la terapia perché l'errore che ho fatto io è che quando i farmaci mi davano sollievo ho abbandonato la terapia e poi ero una macchina a a allo sbando ecco quindi questo è l'unico consiglio pragmatico che ti posso dare ecco ciao ciao quali sono stati i momenti più difficili che hai affrontato con l'ansia e la depressione e come hai trovato la forza per superarli? oh eh eh i momenti più difficili sono quando non hai più motivo per eh ok il motivo più difficile è quando il pensiero di morire ti dà più sollievo rispetto a quello di svegliarti il giorno dopo e per uscirne serve tantissimo lavoro ed è esattamente pedistico quello che ho detto lei prima è farsi aiutare e chiedere aiuto è la prima cosa grazie bravo ciao non ho capito vai se no ti do il mio eh vediamo ma chi è che lo spegni non spegnetelo fonico ce lo spegni apposta tu sei tuo io lo so secondo te confrontarsi con una persona a sé cara può essere d'aiuto sì non sempre non è detto molte volte sai non lo so questo è un mio parere personale quindi prendete con le pinze quello che dico perché io ho solo la terza media quindi non ho alcun tipo di competenza per poter parlare nel merito dopo sette anni di terapia quello che ho capito è che siamo noi voi siete i traumi che prevalentemente mi hanno dato i vostri genitori perlomeno io sono i traumi che mi hanno dato i miei genitori in maniera inconsapevole mi hanno voluto bene però fare il genitore è la cosa più complicata del mondo i tuoi genitori ti lasceranno dei traumi tu lascerai dei traumi come genitore perché non esiste un manuale per farlo motivo per il quale sì ha senso parlare con persone care ma parlare con delle persone esperte a volte è meglio ciao buongiorno buongiorno come affronti la gestione dello stress e dell'ansia specialmente considerando la tua vita pubblica e professionale ottima domanda allora faccio tante terapie ho trovato fortunatamente in gergo si dice la mia molecola perché ovviamente gli psicofarmaci devi trovare il tuo quindi fortunatamente dopo un calvario e un girone infernale anzi due gironi infernali sono riuscito a trovare la mia molecola e dall'altra parte ho compreso che devo lavorare tantissimo su me stesso quindi ho ripeto ho la grande fortuna il grande privilegio non solo di potermi permettere economicamente delle cure che oggi lo stato dovrebbe fornire gratuitamente a tutti ma anche il tempo da poter dedicare a me stesso che è un'altra un'altra forma di privilegio in qualche modo questo questo è bellissimo che un po' è che è alla base di tutte le cure no? l'ascoltarsi di più prendersi cura di se stessi credo che le domande dei ragazzi siano siano no c'è ancora una te lo diamo arriva arriva ciao Fede ciao ciao c'è gente che dice che per risalire bisogna toccare il fondo tu che probabilmente l'hai toccato come risponderesti all'affermazione di queste persone? sì ma sarebbe meglio di no perché è una merda onesto è una consolazione però pensare meglio di no però cioè io avrei evitato bene grazie siamo abbiamo le domande sono finite io ti volevo fare adesso visto che siamo in un contesto scolastico un grande psichiatra Claudio Mencacci che è un po' è il suo compito tra l'altro è lavoro a state bene fratelli per cui parlando delle cause un po' delle crisi dei giovani ha parlato di immobilismo fisico ed emozionale pensiero corto ora mi spiego meglio che è proprio un gergo per farlo capire i giovani proprio immobilismo dice che però volevo buttarla lì come come riflessione finale immobilismo inteso sia come una riduzione del movimento cioè dice dopo la pandemia magari non ci si pensa ma bene o male siamo tutti un po' più sedentari si fa meno attività fisica si esce meno ci sono meno occasioni spazi per incontrarsi quindi questo immobilismo fisico che si porta dietro anche un'immobilizzazione emozionale perché mentre da un punto di vista cognitivo il digitale ti offre tanti spunti la parte più emozionale di relazione ovviamente se non viene se non c'è la relazione vera con le persone diventa viene un pochino meno e poi pensiero corto cioè questa crisi la guerra la crisi economica il climate change la situazione finanziaria insomma siete generazioni che non sono abituate a guardare tanto in là ecco e queste sono un po' diciamo le due cause che in qualche modo tra le cause ecco che probabilmente anche raccontano un po' questo malessere così volevo un po' chi sono io per smentire un esperto nessuno quello che dico io è provate se non si prova a dare un'alternativa non si può fare dare una definizione ti faccio un esempio stupido un altro tema oltre all'immobilismo e la precarietà del futuro c'è un altro tema che tutti dicono che è il calo della soglia d'attenzione ok quindi TikTok tu stai davanti a TikTok ti guardi tre secondi di una roba stai attento per tre secondi la soglia d'attenzione si è abbassata drasticamente su YouTube vanno gli shorts che non sono i video ok chi ha detto che questa cosa è vera questa cosa è vera semplicemente perché ci sono contenuti corti io faccio un podcast che dura un'ora e mezza e ogni settimana sono primo in tendenza su YouTube e faccio molti più numeri di uno shorts di 15 secondi ma ho offerto un'alternativa ai ragazzi quindi il tema è che non c'è un'alternativa per loro ma se si dà un'alternativa probabilmente sono meno rincoglioniti di quello che pensano gli altri bellissimo e mi sembra credo che non ci sia modo migliore per chiudere riportando la responsabilità sugli adulti di riferimento chi si occupa di media chi si occupa gli insegnanti i genitori per effettivamente offrire alternative perché i ragazzi sono molto attenti molto più attenti e molto più come dire avanti di quello che probabilmente si dice e si racconta grazie grazie a voi grazie a tutti ciao a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti